Si è aperto con un rinvio al prossimo 20 gennaio per il cambio di un giudice il processo per il falso improspetto che vede seduti sul banco degli imputati ancora una volta l'ex presidente di Banca Etruglia Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi e il funzionario David Canestri. Si tratta di uno dei filoni dell'inchiesta sul crack dell'Istituto di Credito Aretino. Secondo l'accusa, la banca inviò a Consub una relazione non aderente alla realtà dei fatti in una fase in cui l'Istituto di Credito era già in difficoltà. Quella banca era una banca decotta, si sono date false informazioni per rappresentare una situazione che viceversa voleva dire che così non era e con questa è stata fatta una raccolta, ricordiamolo, di 120 milioni di euro nel 2013 con prodotti a emissione quinquennale e decennale con tipologia media e medio alta, tipologia di rischio del prodotto medio e medio alto, quando viceversa se si fosse realmente rappresentata la situazione che era venuta a determinarsi nella banca anche a fronte delle innumerevoli ispezioni fatte dalla Banca d'Italia, quel profilo di quei prodotti dovrebbe essere stato un profilo di massima rischiosità. La successiva collocazione delle obbligazioni subordinate nel 2013 avrebbe così messo a rischio i risparmiatori come poi avvenuto due anni dopo quando furono azzerate in seguito alla risoluzione della banca con il decreto salvabanche. Quindi sono direttamente danneggiati perché avrebbero potuto non acquistare quei titoli o fare una valutazione diversa, quindi un danno patrimoniale sicuramente diretto e immediato dalle condotte degli indagati e poi un danno morale perché si sono visti bruciati i loro risparmi. Sono già oltre 2.100 le richieste di ammissione come parte civile nel processo, per la maggior parte si tratta di obbligazionisti ed azionisti. Non avevo mai avuto nessun rapporto né obbligazioni né azioni perché per me tutto quanto era a scadenza e mi hanno tirato dentro per il fatto dicendomi che era tutto regolare, la banca andava bene e le azioni si potevano riprendere subito al momento di bisogno.